Bethesda sembra che stia impiegando molte persone per Starfield, a quanto pare forse c'è un indizio dell'arrivo di un nuovo hardware da parte di Xbox, con tutta probabilità la nuova scatoletta per l'Xcloud, ma soprattutto Death Stranding 2. Continuano a venire fuori degli indizi su una sorta di possibile presentazione imminente. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora, negli ultimi giorni abbiamo parlato assai di quello che sta succedendo intorno a Kojima e soprattutto a Kojima Productions, con tanti rumor ma anche delle cose vere e proprie pubblicate da Kojima, assai criptiche per carità, che non danno un'indicazione precisa, ma che mostrano che senza dubbio qualcosa sta bollendo in pentola e che è lecito aspettarsi una presentazione di qualcosa abbastanza presto, perché di solito quando Kojima comincia a postare cose vuol dire che siamo vicini a un reveal di qualche cosettina. Ecco, e questo qualcosa, a dire la verità, abbiamo già detto che cosa può essere Death Stranding 2, praticamente confermato in realtà. Ebbè, potrebbe esserci una sorta di conferma indiretta che sta per essere presentato, sì. Death Stranding 2, anche l'attore di Die Hardman anticipa novità. State of Play in arrivo? Negli ultimi giorni si parla in maniera sempre più insistente la possibilità di assistere in tempi brevi all'annuncio di Death Stranding 2. E il recente tweet dell'attore che ha prestato volto e voce a Die Hardman, mi fa sempre ridere sto nome, non fa che confermare questa teoria. Attraverso il suo profilo personale Twitter, l'attore Tommy Earl Jenkins ha infatti pubblicato il seguente messaggio. Qualcosa sta per arrivare. Siete pronti? Direi che è piuttosto chiaro, no? Non ci ha voluto molto infatti per scatenare le reazioni dei fan che subito hanno ricondiviso e commentato il posto con immagini relative al personaggio interpretato all'attore nel titolo d'opera di Hideo Kojima. Per chi non lo sapesse, le parole di Jenkins non sono che l'ennesima conferma dell'esistenza del secondo capitolo della serie. E gli indizi sono ormai tanti e anche le mezze conferme, mi viene da dire. Era scappata anche a Norma Reduce sta cosa qui. Quindi, trattandosi di un'esclusiva PlayStation al 99%, non è da escludere che Sony stia preparando un nuovo State of Play per svelare al pubblico l'esistenza del gioco e magari mostrare gli altri titoli che faranno parte della line-up della prima metà del prossimo anno. Ricordiamo infatti che l'unica certezza riguardante i primi mesi del 2023 consiste nel debutto di PlayStation VR 2. Ed ecco qui il tweet originale. Allora, io non sono sicuro che verrà dedicato uno State of Play alla presentazione di Death Stranding 2 e vi spiego perché. Allora, io non credo che Kojima voglia legare a una presentazione esclusiva Sony il suo gioco. Io penso che se c'è un posto dove Kojima svelerà i suoi prossimi progetti, non solo Death Stranding 2, a dire la verità, sono possibili anche altre cose, non necessariamente questa. Ricordiamoci che sono comunque non delle conferme, anche se gli indizi cominciano ad essere un po' tanti. Io credo che siano i Game Awards perché, sapete, un grande amico di Game of Kigli, effettivamente Sony non ha chissà che cosa da presentare nei primissimi mesi del 2023 a parte PlayStation VR 2 e quindi intendo come giochi, come software. E quindi, in caso presentassero Death Stranding 2 ai Game Awards, sarebbe effettivamente un modo per Sony di mettersi, anche lei, in mezzo alla presentazione di tantissime altre cose che ci saranno ai Game Awards e quindi ricavarsi il suo spazio e assolutamente la sua attenzione. Perché sappiamo che quando esce la presentazione di qualcosa di Kojima, non dico che tutti gli occhi sono universalmente al 100% puntati su quelle, probabilmente, voglio dire, è un evento con tante cose, ok? Però andiamo. Secondo voi che cosa succederebbe se nei prossimi Game Awards viene presentato Death Stranding 2? È ovvio che si parlerà principalmente di quello, più altre cose. E quindi, in realtà, io credo che a sto giro non serva uno State of Play dedicato, ma sia molto più adeguato, insomma, sarebbe un'idea migliore, dal mio punto di vista, per Sony di, insomma, preparare un qualcosa all'interno di un evento come quello dei Game Awards, d'accordo? E fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ragazzi. Io credo che ormai, ve l'ho detto, gli indizi sono troppi, troppi. Credo che qualcosa davvero stia bollendo in pentola. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche di questo e se, per voi, quello dei Game Awards è una data probabile o meno. Beh, ragazzi, negli ultimi anni Microsoft ha decisamente rivoluzionato la sua offerta videoludica e l'ha fatto, ovviamente, con il Game Pass, ma anche con tanto hardware, d'accordo? Nuovo, con le console di nuova generazione ed è l'unica ad avere due console diverse per categorie di prezzo diverse. La Series X è più potente e la Series S è meno potente, ma già da tanto tempo si vocifera ed è ormai praticamente, anzi, credo che ci sia una conferma ufficiale, anche se non l'abbiamo mai vista proprio fisicamente, nell'arrivo di un altro hardware che sia una specie di scatoletta da attaccare a qualsiasi cosa da utilizzare insieme a xCloud. Bene, vi ricordate che cosa capitò con le famose mensole di Phil Spencer? Bene, ci risiamo. Phil Spencer, oggetto misterioso compare sulle mensole dell'ufficio. Di che si tratta? E c'è un aggiornamento che saltiamo perché lo vediamo dopo. Ricorderete certamente di quando Spencer ha mostrato Xbox Series S su una mensola, prima ancora che la console venisse annunciata. Ebbene, più o meno da allora esiste la convinzione che tutti gli oggetti sulle mensole di Phil abbiano un significato. In questo caso salta all'occhio il misterioso oggetto bianco che si trova sulla mensola più alta, subito di fianco a un controller Xbox. Di che si tratta? Sembrerebbe avere un logo Xbox nella parte sinistra e un rettangolo nero in quella destra, simile a una finestra per la ricezione di input. Alcuni utenti credono possa trattarsi di una qualche revisione del Kinect, altri sostengono sia una Fantomatic Xbox Series C. Un set top box dedicato esclusivamente al cloud, per esempio. Cosa che a questo punto avrebbe anche senso. C'è anche un aggiornamento però da quando è uscita la notizia, proprio nelle ultimissime ore. Ha detto, visto il rumore provocato al post di Spencer, sui social e nonni, il profilo ufficiale di Xbox ha ripreso il suo capo con una battuta. Che avevamo detto sul mettere vecchi prototipi sulle mensole, boss? E in caso non fosse abbastanza chiaro, andiamo direttamente su Twitter e adesso vi mostro. Eccola qua, l'immagine vera e propria. La vedete questa scatoletta qua sopra? Effettivamente non è un hardware conosciuto. Giusto? E da qui è partita la speculazione. Allora, onestamente, a mio parere si è speculato un po' troppo sulle famigerate mensole di Phil Spencer. Ma a onor del vero non è che non ci siano dei precedenti. Perché in effetti, vi ricordate che cosa successe? Non solo con quello citato dall'articolo. Cioè con la famosa Xbox Series S comparsa lì, misteriosamente mostrata da mesi e mesi. E nessuno lo sapeva, nessuno se ne era accorta ancora prima di annunciarla, era già lì e qualcuno l'ha ripescata dopo. In realtà c'è stato qualcosa anche per quanto riguarda la collaborazione con Kojima che poi alla fine si è verificata per davvero. Cioè è stata rivelata ufficialmente da Kojima stesso in un evento Microsoft. Bene, quindi, al netto del fatto che non si deve esagerare con questa speculazione sulle famigerate mensole di Phil Spencer, è lecito farsi due domande quando si vede un qualcosa che non si è ancora mai visto. Ed è ovvio che partano un po' di speculazioni. D'accordo? Potrebbe essere quello di cui si parla più frequentemente? Ovvero la nuova scatoletta xCloud? Il famoso progetto Keystone? A mio parere ci sono molte possibilità che questo avvenga, perché a dire il vero, per come stavano andando le cose, io pensavo che a questo punto l'avrebbero già presentata, cioè io me l'aspettavo già. Per come avevo fatto i calcoli io, doveva già essere stata presentata questa scatoletta e invece no. E quindi a maggior ragione penso che, io credo che sarà il momento, no? Probabilmente durante i prossimi eventi da qui alla fine dell'anno o giù di lì. Quindi, secondo me, la possibilità c'è. Secondo me, diciamo che questa cosa ha un qualche tipo di fondamento. Ovviamente non si deve esagerare, con le speculazioni non bisogna certo darlo per scontato, ma dai, alla fine ci potrebbe stare come suggerimento. Rimaniamo in ambito Xbox, perché si è parlato tanto negli ultimi anni, fin da quando è stato presentato, del Game Pass. Io l'ho sempre lodato un sacco, moltissime persone si sono trovate molto bene, moltissime persone hanno lodato il nuovo servizio Microsoft, e molti però invece diciamo che non sono molto d'accordo con la filosofia, oppure non ne trovano utilità. C'è anche chi dice che Xbox Game Pass sia di fatto insostenibile e che Microsoft lo terrà su per un po', per ritagliarsi i quote di mercato e poi o lo ridimensiona o aumenta i prezzi o cose del genere, perché a quanto pare, secondo molti, il servizio è in perdita. È difficile dirlo, ovviamente, ragazzi, e non è che dei dati che sono scappati fuori possono farci pensare necessariamente il contrario. Ma nonostante questo, sentire quanti soldi ha incassato nel 2021, direi che un po' è rappresentativo. Xbox Game Pass è una miniera d'oro, forse. Quasi 3 miliardi di dollari incassati nel 2021. Tramite una serie di documenti forniti al CADE, Administrative Council for Economic Defense, nell'ottica dell'approvazione e dell'acquisizione di Activision Blizzard, possiamo scoprire quanto denaro ha generato Xbox Game Pass nel 2021. Quindi, l'informazione è effettivamente ufficiale. Stando ai documenti in questione, la casa di Redmond ha incassato 2,9 miliardi di dollari dagli abbonamenti Xbox Game Pass su console nel 2021, su un totale di 16,28 miliardi di dollari incassati dalla divisione Xbox nello stesso anno. Questo vuol dire che Xbox Game Pass rappresenta quasi il 20% degli incassi totale della divisione e quasi il 30% degli incassi della divisione Games Service di Microsoft. Si tratta di numeri generati indicativamente con 15-18 milioni di abbonati, mentre già sappiamo che a gennaio 2022 gli abbonati all'Xbox Game Pass erano pari a 25 milioni. C'è da dire che la cifra in questione sembra riguardare esclusivamente gli abbonamenti venduti su console, e non tiene conto dunque degli introiti di PC Game Pass e degli eventuali acquisti in app effettuati dagli abbonati su Xbox. Quindi numeri importanti e continua crescita con questi documenti. La casa di Redmond vuole comunque respingermi i tenti da così monopolio. Cioè, questi documenti erano stati dati per un'altra ragione, ma da questi documenti può partire effettivamente un ragionamento. Ed è proprio questo ragionamento che voglio fare con voi, ragazzi, perché è difficile fare dei conti comunque. Qualche dato ce l'abbiamo, e da questo dato possiamo, diciamo, depennare le cose meno probabili. Difficilmente Xbox Game Pass è un fallimento, perché questa quantità di abbonati è un po' difficile che rappresenti una sostanziale e colossale perdita per Microsoft. Per carità, noi non sappiamo quanto ha speso Microsoft per i giochi nel Game Pass e quanto spende per gli studi e quanto invece sarebbero gli introiti per i giochi venduti singolarmente e quanto però, in effetti, le persone, se non giocassero le cose sul Game Pass, probabilmente non le comprerebbero singolarmente. È un conto molto difficile da fare, ragazzi, e quindi sentire questo numero non ci offre una prospettiva chiara se non la possibilità di depennare le ali estreme. Cioè, possiamo depennare l'idea che il Game Pass sia un colossale fallimento, ma possiamo anche depennare il fatto che Xbox Game Pass sia il più grande successo in assoluto della storia, perché comunque le spese sono tante finché non teniamo conto di quelle. Beh, 25 milioni di abbonati sono tanti, ma per quello che si prefigge di fare Microsoft devono essere molti di più e sono convinto che tutti quanti lo sappiano, questo. Quindi che cosa si può evincere? In realtà che il servizio sta crescendo e che vuoi o non vuoi ci sono milioni e milioni di giocatori che questa filosofia l'hanno sposata. Dalle mosse di Microsoft però si capisce anche che non è finita qui e che ci sono tante altre cose che devono offrire prima di risultare convincenti al 100%, perché nonostante i 25 milioni di abbonamento ancora molte persone al Game Pass non vogliono iscriverci sì per le ragioni più disparate, ovviamente. Ogni azienda cerca di spingere i suoi prodotti. Voglio dire che quindi è difficile dare una risposta e voglio lanciare un ultimo messaggio. Quando vedete numeri del genere, ragazzi, dovete metterli nel contesto e molto spesso il contesto semplicemente non esiste. Noi come semplici giocatori, per quanto informati, per quanto magari delle persone che vanno a ritrovare un po' di dati qua e là, anche se siamo molto più bravi di chiunque altro e c'è chi è 150 volte più bravo di me nel raccogliere dei dati, ovviamente è difficile avere la visione complessiva delle cose se non sei dentro l'azienda. Perciò, quando vedete un numero, non necessariamente dovete subito correre a trarre delle conclusioni. Potete fare qualche ragionamento, diciamo, con un sacco di sé e ma. Ed è esattamente quello che ho fatto anch'io. Quindi, vediamo come va nel futuro, ragazzi. Tanto ai prossimi milestone, per così dire, di abbonamenti. Io sono convinto che Microsoft li annuncerà a sprombattuto. Quindi, insomma, prepariamoci a sentire parlare dei, forse in futuro, dei tipo, che ne so, 50 milioni di abbonati o giù di lì. E a proposito di cifre, ragazzi, sapete bene che c'è un gioco in sviluppo da parte degli Xbox Game Studios, ormai da considerare tali, ovvero Bethesda, che è Starfield. Purtroppo è stato rinviato, come ben sappiamo, è stata una coccente delusione per molti e un vuoto nell'offerta di giochi Microsoft del 2022. Quindi, effettivamente, una mancanza piuttosto pesante. Ma il gioco è comunque molto atteso e sembra essere estremamente ambizioso. Tanto ambizioso da scaturire perfino delle perplessità in qualcuno come me che si chiede se Bethesda sarà in grado di gestirla, questa cosa così ambiziosa. Però, a quanto pare, ragazzi, le persone a lavoro sul progetto non sono poche. Bethesda ha 500 sviluppatori a lavoro su Starfield, sono il quintuplo di Skyrim e più del doppio di Fallout 76, che non mi pare un metodo di paragone fantastico, però va bene. Confronto il mondo creato per l'ultimo Fallout è solo una piccola frazione di ciò che vedremo in Starfield. E questo, come vi ho detto, non è universalmente un bene. Però, vabbè. Starfield, il nuovo videogioco open world sci-fi di Bethesda, arriverà su Xbox e PC Game Pass nella prima metà del 2023 e permetterà ai giocatori di esplorare un universo ricco e profondo con oltre mille pianeti visitabili. Nate Purkypile, un ex sviluppatore che ha recentemente abbandonato Bethesda per fondare il proprio studio, ha parlato brevemente della produzione del titolo durante un'intervista per PC Games N, rivelando che Bethesda non ha mai impiegato così tante risorse per realizzare un videogioco. Il livello di ambizioni di questo progetto è diverso dai lavori precedenti di Bethesda. Tutti i videogiochi passati allo studio, da Fallout 3 a Skyrim e Fallout 4, sono stati realizzati da un solo team. Fallout 76 ha richiesto un po' di aiuto esterno, ma il grosso lavoro è stato fatto da Bethesda, Austin e Maryland. Starfield in confronto è molto più grande, ci sono circa 500 persone al lavoro sul progetto, mentre per Fallout 76 erano 200 al massimo. Al giorno d'oggi non è poi così sorprendente avere 500 persone al lavoro su un AAA, ma fino a qualche anno fa la maggior parte dei grandi videogiochi venivano prodotti a team di dimensioni più contenute, da massimo 300-350 dipendenti. Per l'ex sviluppatore dello studio, la vera difficoltà legata alla produzione di nuovi IP non riguarda la grafica o aspetti simili quanto piuttosto ai piccoli dettagli che insieme creano il mondo. Ci sono tanti particolari che passano sott'occhio, ad esempio come fare la forma dei pannelli di metallo, quali colori usare, quali materiali sono a disposizione i cittadini, come differenziare un'area dall'altra, è molto più complesso rispetto a creare un sequel di qualcosa che esiste già. Se vi dicessi il numero di concept creati solo per i pannelli di metallo, rimarresti a bocca aperta. Un impegno diverso dunque rispetto a quello di Skyrim, su cui ai tempi lavorarono più o meno 100 sviluppatori e qui c'è il tweet originale. Beh, allora ragazzi, questo ci offre una prospettiva su un paio di cose. Intanto, una cosa è sicura. 500 sviluppatori sono tanti per un progetto come questo, ma non significa che siano necessariamente abbastanza, perché un progetto mega gigante potrebbe aver bisogno perfino di più persone, però se non altro significa che Bethesda le risorse sul piatto a sto giro le ha messe. Questo, secondo me, e questo a mio parere si ricollega con il rinvio, questo perché io credo che da quando è finita sotto Microsoft Bethesda più tutti gli studi dell'ex gruppo Zenimax, io credo che abbiano applicato, soprattutto negli ultimi anni, un target qualitativo un po' diverso. Bethesda non è certo nota per lo sviluppo di giochi senza alcun problema, no? Sappiamo bene che è uno studio che ha combinato ogni genere di disastro con Fallout 76 e con anche altri giochi e quindi, purtroppo, la perplessità negli occhi di molti è lecita. Bethesda ha fatto però anche dei gran capolavori e quindi, vuoi o non vuoi, devi mettere sul piatto della bilancia queste due cose. Ma io dubito che Microsoft sia più disposta ad accettare un livello qualitativo di consegna come quelle che sono soliti tenere a Bethesda perché io non penso che Microsoft voglia neanche la possibilità di avere un lancio come quello di Fallout 76 o come quello di altri giochi Bethesda che al lancio erano molto problematici imbottiti di bug e di altre cose. Quindi, io credo che tutti questi sviluppatori al lavoro, il fatto che il gioco sia stato rinviato, sono dei segnali del fatto che Microsoft ha detto no, così no. Quindi, adesso vi rimettete a lavoro e lo fate per bene. Vogliamo uno standard qualitativo più alto prima di lanciare il gioco e siamo disposti a prenderci anche il contraccolpo di non avere un gioco fortissimo per il 2022. No? È questo quello che ho pensato io quando si è parlato del rinvio e questa, secondo me, ne è una sorta di ulteriore conferma. Stiamo a vedere, ragazzi, perché c'è tanta gente che lo attende tantissimo, questo titolo e anche io sono molto curioso. Speriamo che tutto questo sia motivato da davvero un target qualitativo come sospetto io. È uno di quei casi in cui spero di avere ragione ma non ne sono affatto sicuro. Abbiamo visto come recentemente Embracer Group abbia preso sotto la sua ala un bel po' di cose diverse. Ha fatto proprio campagna acquisti Embracer Group diventando una realtà che già prima era importante ma adesso lo ha ancora di più perché ha, per esempio, ora tramite l'acquisizione di tanti studi preso i franchise molto importanti tanti come quelli di Tomb Raider, per esempio. E c'è anche Legacy of Kane c'è Deus Ex eccetera, eccetera. E, beh, a quanto pare vuole mettersi al lavoro per farli fruttare un pochettino meglio questi franchise che a quanto pare prima non erano sfruttati adeguatamente e sì, sto parlando proprio di Square Enix purtroppo. E però non molti stanno facendo caso ad una cosa Embracer Group neanche un altro di franchise un franchise che potrebbe avere molto, molto materiale al di sotto di sé per lo meno potenziale e a quanto pare Embracer Group lo sa questo. Il Signore degli Anelli in mano a Embracer Group piani decennali per l'IP. Restati quest'anno ha portato con sé la notizia dell'acquisizione di Middle Earth Enterprises da parte di Embracer Group già, con conseguente passaggio di proprietà per i diritti legati all'immaginario della Terra di Mezzo. Dal Signore degli Anelli allo Hobbit passando per un'ulteriore miriade di produzioni cartacea marchio J.R.R. Tolkien Embracer Group dispone ora di un vero e proprio patrimonio letterario. Come prevedibile dunque l'annuncio dell'acquisizione di Middle Earth Enterprises ha immediatamente scatenato un ampio numero di riflessioni concernenti il possibile futuro videoludico del Signore degli Anelli. Inizialmente il colosse del videogioco ha conservato il più stretto riservo ma in una recente intervista ha aperto un piccolo spiraglio sul futuro della Terra di Mezzo e la direzione di Embracer Group alla redazione di Edge ha dichiarato che sta valutando il miglior approccio da adottare e però ha detto non avremmo acquisito l'IP del Signore degli Anelli se stessimo semplicemente pensando di esprimere nel massimo potenziale nel corso del prossimo anno ha spiegato Embracer Group c'è bisogno di una prospettiva decennale ed è esattamente l'approccio che abbiamo adottato. Già in attesa di annuncio ufficiale da parte di Embracer gli appassionati possano attendere il lancio di The Lord of the Rings Gollum effettivamente deve uscire questo titolo che però non lo so ho molte perplessità riguardo a questo titolo comunque comunque questo è un altro di quei casi in cui ragazzi un gruppo che effettivamente non è al centro dell'attenzione perché quando uno parla di grossi gruppi che possiedono un sacco di realtà di sviluppo videoludico vi viene sempre in mente a tutti a me anche lo ammetto Sony Microsoft eccetera eccetera ma Embracer Group negli ultimi anni è aumentata assai e adesso proprio recentemente ha delle IP molto importanti e devo dire che in passato ha dimostrato di saper lavorare abbastanza bene su questi franchise e quindi la speranza di videogiocatori io credo che sia legittima di vedere questi franchise trattati un po' meglio e considerando che in mezzo a questa roba qui c'è anche tutto l'immaginario della terra di mezzo e beh ma provate soltanto a pensare quanta roba si può fare qualcuno potrebbe dire sì ok non è tanto più epoca dell'hype per giochi del Signore degli Anelli tutto sommato sono passati all'incirca 15 anni da quando il Signore degli Anelli era proprio al centro dell'attenzione videoludica del mainstream ok al centro dell'attenzione del mainstream e basta perché erano usciti i film si parlava di questo si parlava dell'Hobbit in produzione c'erano dei videogiochi c'erano degli altri contenuti tanta gente ha ricominciato a leggere il libro eccetera eccetera c'era tantissima attenzione su Francese il Signore degli Anelli adesso invece ce n'è un po' di meno anche se recentemente è uscita la serie tv diciamo non apprezzata da tutti ma questa è un'altra questione ancora però nonostante questo io vi dico che comunque è un'ambientazione e un franchise che maledizione avrebbe veramente tanto tanto da offrire perciò io credo che Embracer Group al netto di tutto potrebbe avere tante cose da sfruttare e sentire che ha tutta l'intenzione di farlo devo dire che mi rende piuttosto felice vediamo che cosa saranno in grado di fare monitoreremo la cosa per così dire ora passiamo alle news a ruota ragazzi pronti? Need for speed unbound sfriccia in video ecco la data e l'ora del gameplay reveal spoiler è oggi a pochi giorni di distanza il primo trailer di Need for speed unbound tra corse calandestine è estetica anime che qualcuno mi ha detto è street art probabilmente ci avete ragione ragazzi non so perché stanno continuando a dire anime qui sull'articolo probabilmente è molto più adeguato dire street art anche se in effetti qualche cosa però vabbè comunque al di là di questo le Tony Cards fissa la data e l'ora del gameplay reveal del nuovo capitolo della serie arcade racing a mondo aperto a confermarlo sono gli stessi sviluppatori di Criterion riprende la medesima estetica anime ancora la estetica street art del video di debutto facendo leva sulla passione dei fan di queste ip per le acrobazie ad alto contenuto di ottani le derapate dei grattacieli di un'ambientazione urbana liberamente esplorabile e ovviamente le sportellate a velocità folli il primo video gameplay ufficiale di Need for speed unbound sarà trasmesso sui principali profili social e canali youtube della serie di Need for speed a partire dalle ore 17 italiane di oggi martedì 11 ottobre nel momento in cui vedete questo video presumibilmente la società di New York SD gli ha l'occasione per offrirci un'infarinatura delle modalità il comparto grafico i contenuti da fruire eccetera 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 e Need for speed unbound sarà disponibile dal 2 dicembre il che vuol dire due mesi scarsi da ora quindi ragazzi sono molto contento di questa cosa perché proprio tata hanno mostrato il trailer hanno giusto dato il tempo alle persone di processare questa cosa e di discuterne per un po' per un po' di giorni e adesso bam gameplay trailer la trovo una strategia abbastanza buona questa qui e io prego che il gameplay trailer sia interessante io vi ho già detto che sono piuttosto diciamo positivo per la serie di Need for speed in questo momento perché ha scelto una strada che gli altri non stanno percorrendo ovvero invece di spingere sul fotorealismo e sulla simulazione ha deciso di spingere sul lato puramente arcade da quello che pare e questa secondo me è una cosa adeguata io credo che manchi un proprio arcade mainstream un po' cartoonoso un po' esagerato d'accordo e quindi potrebbe ricavarsi il suo spazio però il gameplay deve essere fighissimo e quindi incrociamo le dita ragazzi lo vediamo proprio oggi e domani nelle news ovviamente ne parleremo e infine ragazzi sapete che quando ci sono news su questo titolo ve le voglio sempre dare giusto Final Fantasy XIV a quota 27 milioni di registrazioni ecco le date dei prossimi fan fest si purtroppo c'è stato un recente attacco hacker a Final Fantasy XIV ma l'MMRD Square in X gode di ottima salute uno dei pochi progetti mi viene da dire con una community che si fa ogni anno sempre più ampia di recente l'ha confermato anche lo stesso team di sviluppo dell'MMRPG nel corso una diretta condotta su Twitch Nokia Yoshida infatti ha ufficializzato il raggiungimento di un importante record al momento i server di Final Fantasy XIV online per contare sulla bellezza di oltre 27 milioni di utenti registrati tra giocatori di vecchia data veterani e nuove leve un traguardo davvero notevole per un avventura che ha sulle spalle ormai un ampio numero di anni nel celebrare i traguardi di Final Fantasy XIV online il team ha oltre annunciato le date di svolgimento delle prossime edizioni del tradizionale Fan Festival 28 e 29 luglio negli USA presso Las Vegas mi sa per la prima volta in America 21 e 22 ottobre in Gran Bretagna a Londra e inizio 2024 una nuova edizione Fan Fest in Giappone però in una location non ancora annunciata e aoltre tutto Phil Spencer ha di recente ribadito ancora una volta la volontà di rendere Final Fantasy XIV disponibile su Xbox Series X e S ragazzi vi do sempre aggiornamenti su questo titolo perché io lo adoro è uno dei giochi più incredibili a cui abbia mai giocato e al momento credo l'MMO migliore sul mercato lo sapete ok vi ho voluto dare questo questo dato perché mi fa piacere una precisazione 27 milioni di utenti registrati non significa certo 27 milioni di utenti attivi d'accordo siamo ben lontani da quella cifra a voglia probabilmente non sono neanche lontanamente vicini ai 10 ok e c'è la serissima possibilità che sia così io me lo aspetto però è il numero di persone che hanno scelto di fare un account in qualche maniera e quindi qualcosa significa e sono molto contento per questo progetto perché c'è dietro un team che veramente ci ha messo l'anima per tirare su questo gioco nonostante tutto quindi niente se ancora non l'avete provato e vi piacciono gli MMO sapete che c'è il free trial fino a livello 60 e come sempre vi raccomando di provarlo bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e il link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi a domani ragazzi a domani ragazzi a domani ragazzi